Al mio 3 telefonerò a Enrico Pasquale Pratico, il famoso ragazzo che vive in Calabria, precisamente a Motta San Giovanni. Questo ragazzo è diventato famoso secondo me grazie ad Andrea Di Pre che lo ha intervistato e nel giro di poco tempo ha avuto un sacco di iscritti e ne ha ancora molti. Ma al mio 3 ripeto che procederò a chiamarlo. 1, 2, 3, via. Ecco, attivate il mia voce. Vediamo se risponde. Post mobile, servizio di segretario.